Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Accomodatevi pure chi ci riesce. Chiudiamo la porta. Grazie. Chiudete anche i telefonini perché sento degli squillini. Aspettiamo. Aspettiamo. Blocchi ci perdono. Non c'è un blocchi al telefonino? Aspettai. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 storico assomiglia all'orco delle leggende, quando sente odore di carne umana sa che lì c'è la sua preda. Ecco questa citazione è una citazione appunto di quello che è il leggendario medievista finora vissuto, più famoso di Georges Duby, più famoso di Jacques Legoff, forse un giorno ci saranno medievisti non francesi che uno possa citare con lo stesso entusiasmo, ma insomma loro hanno aperto la strada, sì figuriamoci, ecco. L'apologia della storia è il libro che Bloch scrisse negli anni della seconda guerra mondiale e dell'occupazione tedesca, dovete immaginare la situazione, nel maggio giugno del 1940 la Francia è stata travolta, i tedeschi hanno costretto la Francia alla resa, occupano una grossa parte della Francia, compresa Parigi, permettono che un governo francese messo in piedi dal maresciallo Pétain, il governo di Vichy, governi la parte rimanente. Bloch, che è ebreo, rimane nella parte libera, nella parte di Vichy. Questo vuol già dire per esempio che non può rientrare a Parigi, dove c'è la sua casa e tutti i suoi libri. Bloch che è arrivato, si è tolto la divisa, ne parleremo, era ufficiale di quell'esercito francese che è stato sbaragliato dai tedeschi, non torna e da quando è partito per la guerra non è più tornato e non tornerà mai più a casa sua a Parigi, non rivedrà mai più i suoi libri che sono stati portati a un certo punto in Germania, poi nel dopoguerra fortunosamente una parte sono stati ritrovati. In quegli anni, dalla fine del 40, poi il 41 e il 42, Bloch sopravvive nella Francia cosiddetta libera, la Francia di Vichy, la Francia non occupata, meglio ecco, perché libera non era tanto libera. I tedeschi comandavano e il regime del maresciallo cercava di convincere i francesi che il destino della Francia era di essere alleata della Germania nazista. Bloch però sopravvive, riesce ancora a fare il suo mestiere di professore universitario in cittadine di provincia, prima all'università di Clermont-Ferrand, poi all'università di Montpellier. Ora noi fatichiamo a immaginare oggi cosa voleva dire negli anni 40 la provincia francese, sono cittadine dove non c'è una biblioteca praticamente. Quindi Bloch continua a insegnare ma non ci sono libri e non ci sono archivi dove andare a far ricerca. E cosa fa lo storico che si trova in questa situazione? Ha voglia di scrivere lo stesso. Non è la prima volta che succede questo a un grande storico. A me è venuto in mente un altro grande studioso del Medioevo che si chiama Pirenne, Henri Pirenne. Pirenne era un belga e nella prima guerra mondiale, come sapete, i tedeschi invadono senza protezione. Il Belgio lo occupano per quattro anni con un'occupazione durissima a base di fucilazioni e sfruttamento economico e in Belgio c'è un forte movimento di resistenza anche solo passiva. Pirenne che è un importante professore universitario a un certo punto viene arrestato dai tedeschi perché è un punto di riferimento di questa resistenza. Siamo nel 1916, passerà due anni deportato in Germania e in quei due anni Pirenne che è uno storico del Medioevo e che non ha un elemento a cui risultare però decide di scrivere. E scrive la storia dell'Europa medievale, tutta a memoria, perché le sintesi quando uno sono anni e anni che studia quelle cose le riesci a fare anche senza consultare libri. Bloch fa qualcosa del genere però non fa una sintesi decide di scrivere un libro di metodo, un libro su che cos'è la storia e cos'è il mestiere dello storico. Poi dopo la sua morte sono stati ritrovati quaderni, scartafacci, fogli staccati, abbozzi, indici ed è stato messo insieme questo libro che non è finito, è un libro incompiuto. Il primo appunto in cui c'è l'idea di questo libro è nel dicembre 1940. Bloch fa un elenco libri da scrivere. Altri fanno gli elenchi dei libri da leggere, no? Ecco, Bloch fa l'elenco dei libri da scrivere e fra questi c'è questo libro, l'Apologia della storia, cioè la difesa della storia. Suo figlio Etienne Bloch, che fra i molti figli, aveva sei figli tra maschi e femmine, Mark Bloch. Etienne, che è quello che ha più conservato il culto del padre, ha lavorato per conservare la sua memoria, la sua eredità, dopo la guerra ha poi lavorato su questi manoscritti e ha fornito l'edizione critica di questo libro, complicato, lo capite, perché non è mai finito. L'autore è stato fucilato prima di poterlo finire e quindi ci sono capitoli scritti due volte, iniziati, non finiti. Si sa che Bloch ci ha lavorato un po' nel 1941, ci ha lavorato molto nel 1942, poi ha smesso, perché alla fine del 1942 i tedeschi hanno occupato anche il resto della Francia e per un ebreo è diventato davvero impossibile vivere lì alla luce del sole e Bloch è entrato in clandestinità, si è unito alla resistenza e poi è andata come è andata, lo racconteremo. Io mi sono sempre stupito del fatto che Bloch abbia intitolato questo libro Apologia della storia. C'è anche un altro titolo, Métier d'Historien, il mestiere di storico, ma il titolo predominante negli appunti è questo, Apologia, che vuol dire quasi chiedere scusa originariamente, di cosa deve chiedere scusa allo storico, perché deve difendere la storia. Ci sono diversi tizi di cosa passava nella testa di Mark Bloch in quel momento per concepire un libro così. Per esempio c'è una lettera del 27 settembre del 1941 indirizzata all'amico e compagno di lavoro di tutta una vita, Lucien Favre. Sapete, Mark Bloch è stato un grande medievista, Lucien Favre è stato un grandissimo studioso del 500, del XVI secolo, del Rinascimento francese. Insieme nel 29, insegnando a Strasburgo, avevano dato vita alla rivista Annale, Annale di Storia Economica e Sociale, la rivoluzione delle Annale, diciamo noi, tutto un nuovo modo, ne parleremo, di intendere il mestiere dello storico. Negli anni della guerra sono divisi, Favre è a Parigi e a Parigi continua a lavorare, continua a pubblicare la rivista. È una cosa che poi nel dopoguerra qualcuno gli rimprovererà. Hai continuato a pubblicare la rivista anche sotto l'occupazione tedesca. Favre dirà sempre le Annale non potevano morire, era troppo importante, però le polemiche non mancheranno. Favre è a Parigi nella Francia occupata, Bloch è al sud nella Francia di Vichy e scrive a Favre dicendo se mai questo libro sarà pubblicato sarà dedicato a te. Perché anche se adesso siamo separati e in qualche modo anche divisi, noi abbiamo un'impresa in comune. Noi, dice, abbiamo combattuto lungamente, di comune accordo per una storia più ampia e più umana. La comune opera mentre scrivo è da più parti minacciata, non per colpa nostra. Allora, voi capite cosa vuol dire? Siamo nel 1941. Uno potrebbe pensare, sei uno storico, fai il tuo mestiere. Si farà storia sempre, anche sotto il nazismo, anche in un futuro che è difficile immaginare. Cosa c'entra il fatto che la Francia è occupata? E invece è come se per Bloch le due cose fossero strettamente collegate. Non si può separare il lavoro degli studiosi dalla situazione del paese in cui vivono e della civiltà in cui vivono. Bloch è convinto che la storia ha tante cose da insegnare, anche se non è banalmente la magistra vite, però è convinto che più che mai nei momenti oscuri bisogna insegnare la storia. C'è un'altra lettera sua a Fevre del 41 in cui dice appunto, vedi anche tu cosa sta succedendo, stiamo vivendo il momento forse più oscuro nella storia del nostro paese. Bloch pensa all'umanità, pensa al mondo, pensa all'Europa, ma pensa innanzitutto alla Francia. Benché sia ebreo e francese, e si sente francese fino al midollo ed è nella prospettiva francese che lui ragiona. È veramente un uomo dell'Ottocento ancora in questo senso. Bloch pensa alla Francia e dice va bene, in questo momento cosa possiamo fare? Io dice, io continuo a fare il mio mestiere di professore francese, insegnando la storia che non è di questi tempi la più inutile delle scienze. La storia serve dunque e serve specialmente di questi tempi. Però ecco, perché esattamente questa storia serve? Bloch sceglie di aprire l'apologia della storia con un'altra pagina che è anch'essa molto famosa. se imparassi a usare i segnalibili, ecco, virgolette. Papà, spiegami un po', a cosa serve la storia? Chiuse virgolette. Così un giovinetto, che mi è molto caro, interviene chi lo fa il padre, uno storico. Bloch per tutto il libro mantiene questa finza, che parla di sé facendo finta di parlare di qualcuno. Qui è chiaramente uno dei suoi figli, che ha questo papà, professore universitario, storico, autorevole, anche un po' temuto dai figli, ne riparleremo anche di questo, e che un bel giorno gli ha chiesto, papà ma il tuo mestiere esattamente a cosa serve? e Bloch ci ripensa anni dopo, perché in realtà lui quella volta non ha risposto, o non ha risposto in un modo che lo soddisfi. Ci ripensa adesso, ed è così importante questa cosa che un ragazzino ha chiesto al padre, ma a che cosa serve alla fine la storia, che lui sceglie di cominciare il libro con questa domanda. Del libro che si leggerà vorrei poter dire che è la mia risposta. Poi, a un certo punto, in questi scartafacci in cui Bloch annota gli abbozzi di questo libro, a questo punto c'è una nota, c'è un foglio aggiunto, dove Bloch dice, avevo già scritto questa pagina, mi è capitato di rileggere l'introduzione agli studi storici dei miei maestri, i professori Langlois e Seigne Bo, due rispettabilissimi storici dell'Ottocento, che erano stati appunto i maestri di Bloch e che facevano una storia molto tradizionale, molto diversa da quella che fa lui. Dice, mi è capitato di rileggere la loro introduzione agli studi storici, il Langlois e il Seigne Bo, nella loro introduzione, fanno un elenco di problemi oziosi, cioè domande stupide fondamentalmente. Al primo posto ci mettono la domanda, a cosa serve la storia? Allora Bloch si ferma e dice, sono stati due grandi maestri, da loro ho imparato molte cose, ma mi dispiace, su quello hanno torto. Bisogna porsela la domanda, a cosa serve la storia e bisogna rispondere, non è una questione oziosa. Poi in realtà Bloch, a dire tutta la verità, in questo libro è più interessato a raccontare cos'è il lavoro dello storico, a dire cosa fa lo storico concretamente, come è fatta la sua testa, quali sono i problemi che si pone, com'è che lavora, domande perché la storia serve. Non è, secondo me, che in questo tempo di aiuto abbia dato proprio una risposta. All'inizio, anzi, se volesse liberarsi della domanda, perché all'inizio lui in fondo dice, alla civiltà, nella Grecia e a Roma, e quelli erano popoli che facevano la storia, quelli erano popoli, devo cambiare microfono, vi infastidisce questo? Sì, vi infastidisce. A questo punto mi siedo per poter avere meglio questo vicino alla bocca e vado avanti. Meglio? Meglio, scusa, potete dirlo prima. Comunque, a cosa serve lo storico se poi non si sente quello che dice? Bloch in realtà dice, insomma, i greci, i romani sono popoli che hanno fatto la storia, che basavano la loro cultura sulla storia e, dice l'ebreo ateo Bloch, il cristianesimo è una religione di storici. I libri sacri del cristianesimo, i vangeli, sono libri di storia, così come gran parte dell'Antico Testamento. Mica tutte le religioni hanno dei libri sacri che sono così dichiaratamente libri che raccontano vicende vere di uomini vissuti con nomi, date, luoghi e così via. Questa è la prima risposta che viene in mente a Bloch, secondo me se ne potrebbero guardare tante altre, ma poi lui è interessato invece soprattutto a raccontare qual è il mestiere dello storico. Però appunto, apologia. E c'è un passo interessante nell'apologia della storia che lascia intuire, secondo me, come mai lui si mette in questa prospettiva quasi difensiva. Tutto il libro è pieno delle esperienze che lui ha vissuto da poco. La guerra. La prima, che ha vissuto tanti anni prima, è l'ultima, adesso la seconda, che ha vissuto pochi mesi prima. Ed è anche il motivo per cui io vi racconterò molto poi delle esperienze di Bloch in queste guerre, perché questo libro è tutto pieno di questi ricordi. Ve lo cito. Era il giugno 1940, il giorno stesso, se ben mi rammento, dell'entrata dei tedeschi in Parigi. Nel giardino normanno, in cui il nostro stato maggiore, senza truppe, trascinava i suoi ozzi, Bloch è ufficiale, ha detto a un comando, che in quell'esercito indisfatta ha perduto le sue truppe, non ha niente da fare. Rimuginavamo le cause del disastro. Bisogna credere che la storia ci abbia ingannati, mormorò uno di noi. Così l'angoscia dell'adulto riprendeva con accento più amaro la semplice curiosità del ragazzino. E cioè la stessa domanda, ma a cosa serve allora la storia? Se poi può succedere un disastro del genere? Non abbiamo imparato niente? Ecco, questo chiaramente non è l'atteggiamento che Bloch condivide. La storia non ci insegna delle cose nel senso di dirci, che ne so, che la Francia ha sempre ragione e quindi vincerà sempre, che la civiltà trionfa sempre contro la barbarie, che le cose vanno sempre per forza di cose di bene in meglio. Non è così. La storia questo non ce lo insegna affatto. E se tu di fronte a un disastro ti dici, ah ma allora la storia ci ha ingannati? Ecco, non hai capito. La storia non è quello. E poi allora Bloch si dice, ma che cos'è la storia allora alla fine? Dicono che la storia è la scienza del passato. Che stupidaggine, dice Bloch. C'è nessuna differenza fra il passato e il presente. E qui viene fuori l'orco. Lo storico si interessa di tutto ciò che fanno gli esseri umani. Nel passato, ma anche nel presente, però attenzione, il tempo c'entra. Lui ci arriva lentamente, fa tutta una serie di ragionamenti per arrivare alla fine a dire questo. La storia non è la scienza del passato, è la scienza dell'uomo, ma non è la sociologia o l'antropologia, perché c'è una dimensione di cui la storia non può fare a meno. È il tempo. La storia è la scienza dell'uomo nel tempo. E questo vuol dire in sostanza due cose, secondo me, perché poi va decifrato. Non è sempre così ovvio. Primo vuol dire questo, che l'uomo è sempre lo stesso animale e che sono riconoscibili le sue caratteristiche, i suoi impulsi, la sua natura. Però ogni epoca è diversa dall'altra. Gli esseri umani sono plasmati dall'epoca in cui vivono. Bloch cita un proverbio arabo in questo che io trovo bellissimo. Gli uomini assomigliano più al loro tempo che ai loro padri. Quindi ogni epoca l'essere umano, che pure è sempre lo stesso, cambia. E quello è il mestiere dello storico, andare a capire come gli uomini cambiano nel tempo. E poi naturalmente il tempo cambia tutte le cose umane, non c'è niente che regge. Le lingue, le istituzioni, le idee, tutto col tempo si modifica. E lì lo storico deve andare a capire cos'è che succede, com'è che le cose degli uomini cambiano nel tempo. Ecco dunque Mark Bloch si sentiva un orco, pensava che ogni storico è come l'orco delle fiabe. Poi lui a vederlo nelle foto non sembrava affatto un orco. Un signore abbastanza, no, grassoccio da giovane no, al tempo della prima guerra mondiale in uniforme da ufficiale dell'esercito francese, col che pì i baffi, era un bel giovanotto. Nelle foto della maturità è un signore che si è ingrossato, anche diviso, pelato, coi baffetti, gli occhialini da intellettuale degli anni 30. E in apparenza Bloch è davvero un tipico intellettuale francese della sua epoca. Se uno va a vedere la sua biografia è tutto normale. Il papà è professore all'università, non è dovuto soltanto all'ignobile corruzione, se spesso i figli dei professori universitari diventano anche loro professori universitari e anche perché imparano ad amare un mestiere e a imparare anche un pochino come lo si fa quel mestiere. Nel caso di Bloch è certamente così. Bloch è figlio di uno storico che insegna all'università. Fa la normale carriera di un universitario francese, un bel liceo a Parigi, Louis Le Grand, abbiamo le testimonianze dei compagni di scuola, era un primo della classe insopportabile. Poi l'école normale superiore a Ruedulme e poi la routine delle cattedre nei licei di provincia in attesa che arrivi la cattedra universitaria. È tutto normalissimo, tranne per un dettaglio, il cognome. Si chiama Bloch. È un cognome che suona tedesco? Sì, è un cognome che suona tedesco. È un cognome da ebreo alsaziano. I Bloch sono una famiglia alsaziana e quindi di una provincia che nei secoli è sempre stata mezzo francese e mezzo tedesca, che nel 1870 con la guerra franco-prussiana l'impero tedesco si era annesso. In quel momento agli abitanti della regione era stato chiesto volete restare qua sotto i tedeschi o trasferirvi in Francia? I Bloch erano stati fra i molti che si erano trasferiti in Francia. Ecco, questo è molto importante perché viene fuori anche nell'apologia della storia questa doppia identità, un'identità ebraica e un'identità francese. Delle due, fino a quando non arriva il nazismo sulla scena della storia, Mark Bloch ne conosceva una sola, l'identità francese. Erano quelle famiglie di ebrei non praticanti, non credenti, completamente indifferenti a un'identità ebraica perché per loro l'identità di cui essere orgogliosi era l'essere francesi. È una cosa buffa, c'è una, non so più quale città francese, c'è un liceo intitolato a Mark Bloch e sul sito di questo liceo hanno messo un testo in cui si parla della grande tradizione culturale del mondo ebraico, questi ebrei sfuggiti ai pogrom, la loro cultura così tipica, il loro attaccamento ai valori della loro tradizione. Etienne Bloch, il figlio di Mark che appunto ha pubblicato l'edizione critica definitiva dell'apologia della storia, a un certo punto ha fatto riferimento a questo sito innocente di una povera scuola francese dicendo tutte scemenze, tutto questo nella nostra famiglia non esisteva. Bloch fa dunque il suo praticantato, aspetta la cattedra all'università, poi succede qualcosa che cambia la vita sua come cambia la vita di tutti, scoppia la prima guerra mondiale. Nel 1914 è mobilitato, è sergente di fanteria, ma farà carriera e concluderà la guerra da capitano. Per chi non ha familiarità con i gradi militari, che un sottoufficiale diventi ufficiale non è così ovvio, poi d'accordo spesso i sottoufficiali vengono dalla plebe, mentre invece qui era uno che era sottoufficiale perché era comunque un professore di scuola, era forse naturale che diventasse sottotenente, che poi da sottotenente diventi tenente e che poi da tenente diventi capitano, non è una cosa così ovvia, anzi Etienne Bloch, sempre il figlio, ha incontrato un giorno un colonnello dell'esercito francese che gli ha detto, a parte suo padre, altri casi di uno che ha cominciato la guerra da sergente e alla fine era capitano, non ce n'è nessun altro. Magari lo diceva per fargli piacere, non è vero, ma insomma è già significativo di una cosa, il professor Bloch si è rivelato un eccellente ufficiale, ha fatto la guerra da nazionalista francese convinto che quindi quella guerra era giusta, sacrosanta, una guerra per la civiltà contro i barbari, ha fatto la guerra con passione, è stato citato quattro volte all'ordine del giorno della sua divisione, vuol dire il comandante della divisione pubblica un bollettino dove menziona gli ufficiali che quel giorno hanno compiuto qualche atto degno di nota. A Bloch è successo quattro volte e nel suo testamento scritto durante un'altra guerra dirà vorrei che al mio funerale si leggessero le mie quattro citazioni al valore per dire quanto ci teneva naturalmente. Bloch ha fatto la guerra e quella guerra spaventosa che è stata la prima guerra mondiale, è stato in trincea, ha saputo cosa vuol dire vedere ammazzare la gente tutto intorno a te. Lo faceva con occhio clinico, attraverso quegli occhialini osservava la realtà, osservava gli esseri umani, le loro reazioni, i loro comportamenti, osservava le proprie reazioni. C'è un passo molto interessante in un suo libro di ricordi di guerra in cui racconta cosa vedi quando qualcuno viene ammazzato vicino a te. Quando la pallottola colpisce il cranio da una determinata angolatura lo fa esplodere. In questo modo morì L, un suo camerata. Metà del volto pendeva come un'imposta scardinata e si vedeva all'interno della scatola cranica quasi vuota. Con un asciugamano ricoprì quell'orribile ferita. Volevo nasconderla ai miei soldati. Sentite qua. I contadini e gli operai, considerati dei duri, spesso sono particolarmente impressionabili. Da parte mia sopporto senza troppa difficoltà gli spettacoli cruenti. Capite cosa vuol dire essere un borghese, un grande borghese di famiglia intellettuale, uno che di mestiere osserva i comportamenti degli uomini nel tempo certo per carità e con questa freddezza anche abbastanza ghiacciante. La brava gente, il popolo non sono così. Loro provano orrore. Il capitano Bloch invece tutto sommato scopre con un certo compiacimento che lui a questi spettacoli resiste. Poi certo anche lui ogni tanto si fa impressionare. C'è un'altra pagina in cui racconta di una volta che dalla trincea, e c'era la trincea nemica molto vicino alla trincea tedesca, e sentono che a un certo punto ci sono parecchi tedeschi nella trincea nemica lì vicino che stanno forse lavorando. E allora Bloch dice tiriamogli qualche bomba a mano. E uno dei suoi soldati che le sa tirare bene si mette lì, prende le bombe a mano e poi in rapida successione lancia parecchie bombe a mano in pieno nella trincea tedesca, in mezzo a questa brava gente che stava lì senza sospettare niente. Bloch lo racconta, dice abbiamo sentito delle urla spaventose, gente che gridava, chiamava mamma eccetera, e poi il silenzio. E conclude, non è un ricordo di cui sia particolarmente fiero, però intanto l'ha fatto. Torna dalla guerra, con la salute rovinata, si è beccato due ferite in trincea, anche se non gravi, ha rischiato di morire di tifo e si porta a casa un'artrite che per tutta la vita gli impedirà di battere a macchina con facilità, gli fanno male le mani. All'epoca per chi scrive battere a macchina è assolutamente indispensabile. Dopodiché torna dalla guerra avendo imparato un po' di cose che metterà frutto nella apologia della storia. Perché come vi dicevo l'apologia ha un titolo menzognero, in realtà lui si stufa presto di questa cosa di spiegare a che cosa serve la storia, preferisce spiegare cos'è, com'è che si lavora e perché si deve lavorare così. E allora una cosa interessante per esempio che dice, e io ho imparato in guerra, che non ci si deve fidare di quello che la gente racconta, non ci si deve fidare delle testimonianze, non ci si deve fidare neanche della memoria. Io stesso, dice Bloch, se penso a una cosa che dovrebbe essere assolutamente fondamentale e cioè la prima volta che mi sono trovato in combattimento. Ecco, dice, io non mi ricordo mica bene. I miei ricordi, sì ci sono dei ricordi di quel primo giorno sotto il fuoco. Cito, non proprio precisi. Una serie discontinua di immagini, in sé vividi i ricordi, ma male organizzati, come la pellicola di un film con dei grossi buchi e qualche scena inserita. E allora quando tu interroghi la gente e la gente ti racconta? Eh, quando tu interroghi la gente e la gente ti racconta, dice Bloch nell'Apologia, devi stare ben attento, non ti devi fidare. Puoi cercare di organizzarti qualche principio. La prima cosa è che non è mai detto che sia vero quello che la gente racconta. Non ti stupire se i testimoni di una scena la raccontano ciascuno a suo modo. È così che succede. Poi, appunto, a forza di interrogare i testimoni puoi imparare qualcosa. Dice Bloch, niente in genere è più inesatto di ciò che tocca i piccoli particolari materiali. Se ci pensate è controintuitivo, è il contrario di quello che noi pensiamo. Mi ha detto che è sicuro che c'era la finestra aperta perché faceva un gran freddo. Almeno quello sarà così. Invece è proprio la cosa che di solito è sbagliata. La finestra era chiusa. La memoria umana funziona così. E Bloch a questo punto si accorge di una cosa che, devo dire, anch'io trovo abbastanza interessante. Alla fine lo storico si trova nella stessa situazione del giudice istruttore, il quale interroga i testimoni, vaglia le carte e deve ricostruire la verità, deve ricostruire cosa è successo. E si trova immerso in un mondo di testimonianze che non sono false soltanto perché il testimone mente sapendo di mentire. Magari fosse solo quello. È proprio che i testimoni credono in buona fede di aver visto, sentito certe cose e invece non è così. La loro memoria le ha inventate. È una cosa così controintuitiva che a me viene da pensare queste persone a cui lo sto dicendo, adesso non mi credono tanto probabilmente. E invece è proprio così. Bloch ci tiene molto a questa idea, lo storico come il giudice. Ha anche passato dei guai con il suo amico Lucien Fevre, il quale giustamente, avendo capito male, una volta si è scandalizzato, si è arrabbiato moltissimo con Bloch e gli dice ma cosa dici? Ma noi facciamo tanta fatica a insegnare ai nostri studenti che lo storico non deve giudicare, che deve ricostruire i fatti e magari spiegarli, interpretarli, ma non giudicare. Per dire come è facile fraintendersi, anche fra amici, c'è tutto uno scambio di lettere in cui Bloch dice a Fevre, ma scusa ma non hai capito, non sto mica dicendo che lo storico è come il giudice che sentenzia e condanna, ma lo storico è come il giudice istruttore, che vaglia le testimonianze per ricostruire i fatti. Poi nell'apologia della storia, secondo me è indicativo di questa cosa, lui si ricordava che parlando del giudice perfino il suo grande amico e collega Lucien Fevre aveva frainteso, allora nell'apologia della storia decide di metterlo in un modo leggermente diverso, che i testimoni non debbano per forza essere creduti sulla parola, i più ingenui fra i poliziotti lo sanno bene. Ecco evidentemente pensa se il giudice provoca confusione, diciamo poliziotto, così almeno siamo chiari, anche il poliziotto più ingenuo sa che non si deve sempre credere ai testimoni. Poi Bloch prosegue, salvo poi a non ricavare sempre da questa conoscenza teorica le debite conseguenze e a me vengono in mente certe inchieste anche di oggi che si attaccano al fatto che in via Fani al momento del rapimento di Moro un testimone ha dichiarato di aver sentito qualcuno che parlava in tedesco e ci sono poi ex magistrati che scrivono interi libri per dimostrare in base a quell'unico indizio che i servizi segreti della Germania Est hanno organizzato il rapimento di Moro, senza pensare che un testimone che è sicuro di aver sentito parlare in tedesco equivale alle centinaia di testimoni che in quelle settimane chiamavano la polizia dicendo ho visto Moro a Gualdo Tadino, però ecco di quelli si sa, appunto, Bloch pensa che i poliziotti dovrebbero stare più attenti, lo sanno in teoria, in pratica no e anche gli storici devono stare attenti, però dice anche Bloch e qui sembra scritto per il giorno d'oggi, uno deve essere scettico nel senso di sapere quali sono i limiti delle testimonianze, non nel senso di non credere mai a niente per principio, perché quello ti porta in realtà alla peggiore ingenuità. Durante l'altra guerra ho conosciuto un bravo veterinario il quale, non senza un po' di ragione, negava sistematicamente fede alle notizie giornalistiche, non senza un po' di ragione perché in guerra quel che scrivono i giornali si sa, ma se un compagno occasionale incontrato in carrozza o nel corso di una marcia, quindi un perfetto sconosciuto, versava nel suo orecchio attento le frottole più sorprendenti, il mio uomo andava in brodo di giugiole. Cioè l'uomo che non credeva per principio ai giornali, se il primo venuto gli raccontava una roba incredibile, ci credeva subito. E questo ricorda molto il nostro mondo appunto in cui si parla di fake news perché dire bugie non fa più fine e però al tempo stesso proprio quelli che non credono a niente poi sono convinti che ci sono le scie chimiche e che non siamo mai andati sulla luna eccetera. Tutto questo alla fine sono tutta una serie di stimoli che nell'attività di blocco si sono concretizzati anche in singoli lavori e poi sono confluiti in certi capitoli dell'apologia della storia. Alla fine la grande scoperta è questa, è molto interessante studiare come la gente pensa, come sono fatti i meccanismi mentali delle persone e a quel punto poi tu storico questo lo devi calare nel tuo lavoro sul passato perché di nuovo c'è la dimensione che è sempre così, noi siamo fatti in quel modo e poi ogni epoca la rimodella secondo le sue idee, i suoi valori. E' la storia della mentalità che è una delle grandi forze della storiografia del novecento e nostra di oggi e che viene inventata qui. La storia della mentalità cioè la storia non di come sensano i singoli individui che sono tutti diversi uno dall'altro e anche nel medioevo uomini e donne erano tutti diversi uno dall'altro ma come collettivamente si pensa. Bloch nella prima guerra mondiale ha fatto un'esperienza su cui scriverà addirittura un libro ma che poi riprende nell'apologia della storia ed è questo tema, come nascono oggi diremmo le leggende metropolitane le false notizie dice lui, da non tradurre fake news perché noi oggi le fake news sappiamo bene come nascono vengono inventate da qualcuno che ha interesse a metterle in circolazione. Invece le false notizie di cui parla Bloch sono una cosa diversa, sono le illusioni che corrono fra la gente senza che qualcuno l'abbia messa in giro apposta perché non giovano a nessuno però sono false e lui dà un bel esempio proprio nel libro, nell'apologia della storia sulla base della sua esperienza in trincea nella prima guerra mondiale. Provo a raccontarvelo è un briciolino complicato, implica un gioco di nomi fra due lingue diverse ma provo a raccontarvelo lo stesso perché lui ci teneva molto. A un certo punto nel suo reparto, fra i fantacini del suo reparto si diffonde questa notizia, sapete? I tedeschi nello spionaggio sono veramente fantastici ma pensate che l'altro giorno abbiamo preso un prigioniero e si è scoperto che lui prima della guerra abitava proprio qui in questo paesino dove il nostro reparto è acquartierato adesso. Pensate che roba questi tedeschi che prima della guerra avevano già una rete di spie nel nostro paese, nei paesini. Bloch racconta, a me mi è sembrata strana i miei soldati convintissimi, lo raccontavano a tutti. Sono andato a vedere. Questo paesino dove eravamo acquartierati si chiama Bren. Va a vedere, va a vedere i prigionieri catturati negli ultimi giorni chi sono, dove abitavano. Ecco c'è un disgraziato di sotto ufficiale tedesco che prima della guerra faceva il negoziante a Brema, la città tedesca di Brema. In francese Brem, Brem, Bren, i soldati hanno sentito ed è nata questa cosa. Bene, dice Bloch, ma attenzione, perché è nata questa cosa? Perché abbiamo una paura tremenda dei tedeschi, perché abbiamo l'ossessione delle spie, perché siamo convinti che pullulano le spie tedesche intorno a noi. Quindi c'è un'aspettativa, ed è questa aspettativa che determina i modi di pensare della gente. E il motivo, dice Bloch, per cui, anche se le nuvole non hanno cambiato forma rispetto al Medioevo, noi oggi però non vediamo più croci o spade nelle nuvole. E invece nel Medioevo ce le vedevano, perché si aspettavano di vedercele. Io confesso, non mi ricordo più se è Bloch o qualcun altro, ma avrebbe potuto essere Bloch, che a un certo punto scrive, quando uno crede nei miracoli, i miracoli gli capitano. Quando un'intera società crede nei miracoli, i miracoli succedono e vengono raccontati e creduti e così via. Queste cose Bloch, come vi dicevo, le scrive quando ormai è maturata la grande svolta nella storiografia mondiale, possiamo ben dirlo, che lui e Fevra hanno lanciato e che poi altri hanno ripreso la scuola delle annali. Le annali vengono fondate nel 1929, quando Bloch insegna all'università di Strasburgo. Dopo la guerra gli è andata la cattedra lì. E l'idea di fondo delle annali è appunto quella che traspare anche dalle frasi di Bloch che vi ho letto prima, dall'apologia della storia. Noi abbiamo combattuto per una storia più ampia e più umana. Su questo istante mi viene il dubbio di essermi sbagliato e questa frase non avervela letta prima. Se non ve l'avevo letta ve lo dico adesso. C'è uno di questi testi indirizzati a Fevra in cui dice appunto questo, una storia più ampia e più umana. Vuol dire appunto noi dobbiamo occuparci di tutto. Dobbiamo occuparci delle cose di cui si occupano gli economisti, stipendi, prezzi, moneta, delle cose di cui si occupano i sociologi, i comportamenti dei diversi gruppi sociali, delle cose di cui si occupano gli antropologi, le credenze, i riti. Non dobbiamo fare concorrenza a questi colleghi ben inteso e dobbiamo lavorare con loro, sapendo però che a noi il loro metodo di lavoro e le loro scoperte ci servono per proiettarle sul passato. Bisogna far cadere le barriere fra le scienze, fra le discipline umanistiche, fra i periodi. Cos'è questo medioevo che finisce il 12 ottobre del 1492? Allora a momenti ci direte anche a che ora è finito il medioevo. Non è così. La storia è un tutto dentro il quale noi dobbiamo individuare nuove partizioni, nuovi momenti, in base proprio al fatto che gli uomini cambiano e dobbiamo studiare tutto. La corrispondenza di Bloch e Fevre è interessantissima quando parlano appunto degli articoli che vogliono pubblicare sulla loro rivista. Loro spesso andavano a chiedere articoli, gli veniva in mente un argomento mai studiato e andavano a cercare qualcuno che si occupasse di questo. 1935, Bloch a Fevre. Sogno di chiedere un articolo sul cinema. Non ridete. Notate bene, siamo nel 35. Per noi è ovvio che il cinema è una cosa interessantissima e degna di studio. All'epoca gli intellettuali trattavano il cinema così come negli anni 60 gli intellettuali trattavano la televisione. Robaccia. Il figlio Etienne, sempre lui, ci dice mio padre adorava il cinema ma era l'unico. Nel suo ambiente tutti lo snobbavano. Ecco perché Bloch quando nel 35 dice a Fevre per la nostra rivista di storia vorrei un articolo sulla storia di questa cosa nuova che è il cinema, gli dice non ridete perché teme che quella sia la reazione. Quel che penso è che il cinema è uno dei fenomeni più curiosi del nostro tempo e poi pensa si comincia con una scoperta scientifica e poi diventa un'industria, diventa un modo per fare soldi. Nasce un tipo di industria, di capitalismo, di investimento. Cosa deve studiare lo storico se non questo? Da dove vengono i soldi con cui vengono girati i film? Chi è che decide di investire in queste cose? E cosa vuol dire per la gente trovarsi di colpo in un mondo dove anche i poveri tutte le settimane se vogliono vanno al cinema. Prima ci andavano soli i borghesi a teatro, adesso tutti vanno allo spettacolo. Che cambiamento dice Bloch. Oppure un'altra lettera meravigliosa sempre del 35. Mi sto occupando di alimentazione. Ho solo paura che l'argomento mi appassioni troppo perché è appassionante. Avete mai pensato al problema delle marmellate? Ora è chiaro anche oggi 80 anni dopo ci viene da sorridere la idea del problema delle marmellate e invece Bloch lo spiega. Attenzione Bloch vive in un'epoca in cui in tutte le case si fa la marmellata ed inverno si mangia la marmellata della nonna e della mamma. È normale, fa parte della vita quotidiana di tutti i francesi. L'armadio con i barattoli di marmellata fatta in casa. E Bloch dice sì va bene ma da quando? Ci vuole lo zucchero. Ma lo zucchero nel medioevo, io lo so bene, dice Bloch, sono un medievista, nel medioevo costava carissimo lo zucchero. Era una spezia. Di sicuro non la facevano la marmellata nel medioevo. Quando è che tutti i francesi hanno cominciato? C'è un nesso con la barbabietola. Quando si è cominciato a coltivare la barbabietola nei nostri campi e allora lo zucchero di colpo è crollato di prezzo, lì si è cominciato a fare la marmellata. E quindi le nonne forse la facevano già, le bisnonne no. E Bloch appunto ha questo di bello, questa passione di dire ma pensa che rivoluzione quando in tutte le case francesi entra la marmellata e dice e le nostre storie di Francia di questa roba si dimenticano. Perché quei colleghi che scrivono le storie di Francia ti parlano della vittoria di Marignano e della sconfitta di Waterloo e non della marmellata. Ci sono tante cose che sarebbe bello raccontare di Bloch ma noi non abbiamo tempo. Ci sarebbe bello raccontare la vita di un intellettuale, di un professore degli anni 20 e 30 che vive in un mondo diverso dal nostro. È una famiglia agiata, lui ha sposato una figlia di petrolieri, ebrei anche loro, hanno un sacco di soldi. È una famiglia che ha tre persone di servizio fisse, la macchina negli anni 30, la casa di campagna, dove si va a passare come si usava allora queste lunghe estati, tre mesi nella casa di campagna, dove i Bloch sono l'unica famiglia che ha il telefono, l'ha fatto mettere lui e il numero è prefisso, poi il numero uno. E i figli si ricordano queste lunghe estati in campagna con il papà che sta naturalmente tutto il giorno nel suo studio a lavorare, poi ricompare per il pranzo, il caffè, il caffè lo prende con i figli quando sono già grandicelli, essere ammessi al rito del caffè è una gran cosa, poi il papà torna a chiudersi nello studio e lavora tranquillo, tre mesi senza seccature, senza riunioni, comitati, lezioni, tesi, i mesi in cui lavori davvero. E naturalmente la moglie che fa la brava moglie e madre, che cucina, dirige la servitù, organizza la vita, una severità estrema in apparenza. Etienne, il figlio maggiore appunto che ci parla tanto di lui, dice noi avevamo un po' paura di nostro padre, era molto serio, molto severo, era di quella generazione che non aveva ancora imparato che i padri possono esprimere i loro sentimenti e quindi non è che giocava con i bambini, Etienne dice giocavamo a scacchi ogni tanto con il nostro padre, ecco ma era il massimo. Dopodiché pensate alla sorpresa di questi figli ormai già grandicelli quando il padre è via in guerra e loro aprono finalmente quell'armadio segreto che c'è nello studio del padre chiuso a chiave e scoprono che è pieno di libri erotici e che dice come l'enfer famoso della Biblioteca Nazionale dove noi ci stupiamo di meno perché noi nell'ascito delle carte di Mark Bloch oltre ai tanti abbozzi dell'apologia della storia abbiamo trovato anche alcune poesie che ha scritto negli ultimi anni, negli anni appunto delle difficoltà e poi della clandestinità, della lontananza e della morte. Ci sono poesie che lui indirizza alla moglie e una di queste poesie è una poesia in cui le ricorda la prima notte in cui al buio hanno fatto l'amore per la prima volta e c'è neanche un'altra in cui le chiede scusa se la loro giornata insieme non arriverà a durare fino alla sera come se speravano, come speravano, ma finirà prima della sera. Perché? Perché cosa è successo nel frattempo appunto? È stata una parentesi breve a vederla dopo, dal 18 al 39, ma in realtà che le cose andassero molto male si è cominciato a capirlo già molto prima del 39. Il nazismo va al potere in Germania nel 33 con la sua piattaforma antisemita, ma l'antisemitismo è diffusissimo anche altrove e in Francia è molto presente. Certo ufficialmente non esiste e Bloch è un professore universitario famoso, però lui vorrebbe come tutti i professori francesi in provincia tornare a Parigi. Vorrebbe tornare a insegnare a Parigi e vorrebbe andare in quella meravigliosa istituzione che c'è a Parigi che è il Collège, il Collège de France, dove i docenti più illustri di tutte le materie fanno lezione solo una volta alla settimana per il grande pubblico e per il resto sono liberi di fare le loro ricerche senza altri obblighi accademici o didattici. Il vertice. Al Collège si entra per cooptazione, tutti i membri votano. Bloch presenta la sua candidatura più di una volta, non passa mai e ogni volta c'è qualcuno che gli dice guarda che è per il tuo cognome, guarda che è perché ti chiami Bloch perché sei ebreo e alla fine lui lo ammette. Ci sono delle lettere in cui lui lo dice non c'è niente da fare, qui c'è l'antisemitismo, non l'avrei mai creduto ed è la prima volta che lui comincia a pensare al fatto che è ebreo. Lui dice fino agli anni 30 in Francia io di essere ebreo potevo anche ignorarlo totalmente, adesso non posso più ignorarlo. E c'è un bel passo di un altro suo libro, il penultimo che ha scritto. Prima di scrivere l'apologia della storia negli anni della guerra lui in fretta e furia subito dopo la disfatta del giugno del 40 ha scritto un libretto per cercare di raccontare questa disfatta, la catastrofe di questo esercito in cui lui era ufficiale, si chiama La strana disfatta ed è un libro terribile perché è un atto di accusa contro la società francese del suo tempo con questa borghesia così terrorizzata dal comunismo che preferisce i nazisti piuttosto, con questo ceto di ufficiali appunto legati ai loro privilegi che hanno orrore del popolo con questa cecità reciproca insomma delle varie classi sociali e lui nella strana disfatta dice questo sono ebreo se non per la religione che non pratico come non ne pratico nessuna almeno per nascita non ne trago né orgoglio ne vergogna perché sono spero abbastanza buono storico da sapere che le predisposizioni razziali sono un mito non rivendico mai la mia origine tranne quando mi trovo davanti un antisemita davanti all'antisemitismo bloc torna a essere dichiararsi ebreo tutta la seconda metà degli anni 30 è un periodo terribile in cui c'è la pace in apparenza ma tutte le avvisaglie peggiori continuano ad arrivare c'è una lettera del 35 e bloc scrive a fevre tanto per cambiare ecco il fatto che non l'hanno mandato a parigi per noi è utilissimo stava a strasburgo fevre stava a parigi si scrivevano fosse stato a parigi anche lui tutte queste lettere straordinarie non le avremmo scrive a fevre 35 parla del più piccolo dei suoi figli jean paul vuole un segno dei tempi ho sorpreso oggi il piccolo jean paul che deve compiere sei anni che maneggiava una mezza dozzina di soldatini sul tavolo del giardino mi ha fatto vedere i francesi e i tedeschi c'era la guerra naturalmente e alla testa dei tedeschi papà ecco hitler e lui è scioccato dal fatto che un bambino di sei anni sa che c'è hitler che è a capo dei tedeschi e si immagina come ovvio che con questi tedeschi noi francesi faremo la guerra bloc non è uno di non è un comunista tutt'altro non è però neanche uno di destra come tutto il suo ambiente la sua famiglia di petrolieri questa alta borghesia ebraica il ceto intellettuale tutta gente di destra in generale in francia in quel momento bloc no bloc non è comunista perché ha orrore del dogmatismo che è anche una cosa che lui ripete nell'apologia della storia in altri testi lo storico ci sono tanti errori che può fare ma il peggiore è di essere dogmatico di credere che ci sono cose che non si possono rimettere in discussione non è così tutto si può rimettere in discussione salvo poi vedere e se una cosa è confermata va bene il dogma è al suo posto in un bollettino parrocchiale meno nelle annal la nostra rivista e dunque non è comunista però però lui studia gli uomini e li capisce vede il popolo e la francia del fronte popolare per la prima volta i socialisti i comunisti al governo governo di leon blanc le ferie pagate per gli operai lui vede questa gente questo popolo che si sta conquistando qualcosa vede la borghesia gli industriali il clero i militari terrorizzati da questo popolo francese che scende in piazza con le bandiere rosse e dice ma questa gente che sta in piazza ha le sue ragioni lo storico non può non vedere da quanti secoli di ingiustizia escono e come aveva ragione marx a dirgli unitevi in un mondo dove le divisioni si stanno radicalizzando questo basta perché bloc sia considerato da molti un rosso anche il finanziatore della rivista annal un industriale a un certo punto ritira i fondi perché questi sono troppo rossi e poi appunto ci sono tutte queste avvisaglie una lettera del 35 ancora una volta non l'hanno chiamato a parigi lui ci sta male però poi dice ma in fondo chissà come andrà il futuro anzi forse abbastanza sciocco col modo in cui vanno il mondo e l'europa parlare di futuro sempre 35 non essendo profeta non so dove sarò nell'agosto 38 voglio dire in che mondo e se in questo sotto che cielo o magari in un rifugio antiaereo o in un campo di concentramento la vita coi tempi che corrono non abbonda in certezze e poi arriva la guerra e il capitano in congedo mark bloc viene richiamato e addetto a uno stato maggiore lui sa bene l'inglese è stato spesso in inghilterra chiede di essere addetto ai collegamenti con gli alleati inglesi gli eserciti hanno sempre la loro logica lo mettono a dirigere i rifornimenti di benzina di un'armata dopodiché il professor bloc è uno a cui piace talmente fare la guerra che in realtà impara a farlo e diventa uno straordinario organizzatore dei trasporti di benzina dice mi chiamano il re della benzina qui allo stato maggiore la guerra va avanti dura mesi sembra che non succeda niente poi nel maggio del 40 all'improvviso i tedeschi attaccano e bloc che è responsabile di migliaia di automezzi carichi di benzina a un certo punto deve far bruciare tutto perché i tedeschi stanno arrivando tra mons e lille ho fatto bruciare a tutti i crocicchi migliaia di ettolitri di benzina e in un altro testo ho appiccato più incendi io di quelli che può aver appiccato attila e però al tempo stesso al tempo stesso fa i conti con una cosa che aveva già capito nella prima guerra mondiale e che adesso gli è proprio chiara lo dicevo prima malamente gli piace fare la guerra detto così sembra una cosa orribile però stare dentro a questa vicenda che coinvolge milioni di uomini starci dentro avendo una qualche responsabilità vedere dall'interno come funzionano queste grandi organizzazioni e come si sfasciano quando le cose vanno male e correre dei rischi insieme al resto della gente un'intera nazione che sta correndo dei rischi ed essere lì ecco a lui piace c'è un passo nell'apologia della storia in cui racconta questa cosa la racconta sempre alla terza persona come se si parlasse di qualcun altro uno studioso che ho qualche motivo di conoscere bene e lui naturalmente mi ha raccontato che a dunkirk mentre attendeva senza dare troppi segni di impazienza sulla costa bombardata il momento dell'imbarco sapete a dunkirk si imbarcano per andare in inghilterra gli inglesi e si portano anche dietro un po di francesi finché ce ne stanno c'era anche bloc uno dei suoi compagni cioè un altro ufficiale gli disse con aria stupita strano non mi sembra che l'avventura le dispiace il mio amico avrebbe potuto rispondere che nonostante il pregiudizio diffuso l'abitudine alla ricerca non è affatto contraria a un'accettazione abbastanza naturale della scommessa con il destino ma quello che si vede che gli piace l'idea che a lui ufficiale di complemento professore anzianotto molto pelato grassoccio l'altro magari un ufficiale di carriera dice però siamo qua che ci bombardano e vedo che a lei non ci sta mica troppo male in questo momento in questi panni non l'avrei detto e a bloc fa un gran piacere dire sta io sono uno storico e di conseguenza mai giurare su quello che ci può piacere a noi storici dopodiché qui tocca finire la guerra finisce ve l'ho già detto all'inizio bloc rimane bloccato fuori da parigi nella zona non occupata gli trovano comunque un lavoro con gran fatica devo dire perché la repubblica di vichy che si è subito allineata alla politica tedesca discrimina gli ebrei fuori dai posti di lavoro pubblici però è possibile fare domanda di esenzione e poter lavorare lo stesso bloc fa domanda il rettore della sorbona che un altro storico famoso jérôme carcopino un antichista e che sarà ministro a vichy abbastanza fascista quindi però ex allievo di suo padre di nuovo che cosa orrenda nell'università no questi legami fra maestri allievi che poi si favoriscono l'ex allievo di suo padre fa andare avanti la domanda di mark bloc di poter continuare a insegnare benché sia ebreo su 4000 insegnanti ebrei in francia solo 125 fanno questa domanda solo 10 sono accettate una è quella di mark bloc che quindi continua a insegnare in queste cittadine di provincia dove non c'è un libro e scrive la scrive prima la strana disfatta e poi l'apologia della storia finché può poi alla fine del 42 quando gli americani sbarcano in africa i tedeschi si spaventano decidono di occupare tutta la francia la repubblica di vichy finisce e mark bloc riesce a fare espatriare in spagna i due figli maggiori e un nipote perché poi da lì riescono a unirsi alle forze della francia libera in africa uno dei due figli etienne che dice io mi ricordo benissimo l'ultima volta che ho visto mio padre 18 dicembre 1942 alla stazione di montpellier mio padre ci aveva accompagnati lì al treno per la spagna e lo rivedo ancora un'ombra che sparisce nella scalinata della scala della stazione dopodiché va a lione che è il principale centro della resistenza in francia e prende contatti con la resistenza c'è una testimonianza di uno dei capi della resistenza di lione che racconta cosa è successo mi son visto arrivare questo signore sulla cinquantina all'epoca sulla cinquantina si dimostravano più anni di quelli che dimostriamo noi a quell'età con la rosetta della legion d'onore all'occhiello capelli grigi occhi acuti dietro un paio di occhiali una borsa in una mano un bastone da passeggio nell'altra e questo signore con gli occhialini la borsa il bastone si presenta un leader della resistenza dicendo voglio lavorare con voi a lione dove appena è arrivato un nuovo capo della gestapo che si chiama claus barbi qualcuno di voi se lo ricorderà famoso poi come il boia di lione fu processato nell'87 addirittura soltanto molti anni dopo ebbene blocca entra nella resistenza dove a questo punto non vi stupirete più scoprono che il mestiere sembra fatto apposta per lui sa fare anche quello e di conseguenza fa rapidamente carriera nella resistenza con ruoli organizzativi direzionali ma anche con ruolo di portare come dire messaggi porta fare ispezioni ecco la resistenza è organizzata strutturata all'inizio un po caotica qualche testimonianza dice quando è arrivato lui ha cominciato a mettere ordine abbiamo cominciato a funzionare meglio ordine e disciplina la resistenza francese sta mettendo in piedi una struttura che dovrà prendere il potere per quando finalmente gli alleati sbarcheranno in francia e bloc mette in piedi l'organigramma del futuro governo della francia liberata scrive sui giornali clandestini della resistenza sotto pseudonimo chiaramente e poi fa continue ispezioni è una struttura gerarchica mandano ispezioni a prendere contatti con i gruppi nelle varie città il professor bloc ci va dicendo sono uno storico devo andare in archivio nelle varie città va all'archivio fa delle ricerche e poi la sera contatta le persone con cui deve parlare va anche a parigi in segreto torna a casa sua ma non a casa dentro la casa c'è un comando tedesco sul balcone una metagliatrice antiaerea lui passa sotto casa guarda è separato dalla famiglia e questa l'epoca in cui scrive le poesie alla moglie la moglie ogni tanto va a trovarlo gli porta la biancheria pulita da brava madre e moglie di una volta come si usava ancora a quell'epoca le lettere sono frequenti e si vede che non è facile o meglio si vede che da un lato bloc si diverte da matti e che fatto sembra fatto apposta per fare quella vita dall'altro ci sono i momenti di scoraggiamento i momenti di sconforto finiamo subito è perché finisce finisce l'apologia della storia non è finita devo dire ha smesso quando è andato in clandestinità tutte le tracce che abbiamo ritrovato ci dicono che ha scritto fino a tutto il 42 poi a fine 42 è andato a lione e aveva di meglio da fare di nuovo aveva da fare la guerra e quindi ha fatto la guerra e non è più andato avanti a scrivere l'ultima lettera alla moglie dell'otto marzo del 44 e si scusa con la moglie perché è lontano e ci sono tante decisioni da prendere c'è uno dei figli che sta per diventare maggiorenne e vuole entrare anche lui nella resistenza e bloc le dice alla moglie lo so che dovremmo discuterne insieme scusami se sono così lontano c'è anche una lettera a fevre in cui dice alla moglie non lo dice ma a fevre lo dice qui non so fino a quando potremo durare perché gli arresti si stanno infittendo e la gestapo lavora e lavora bene e io non so fino a quando durerò l'ultima lettera alla moglie dicevo dell'otto marzo quello stesso otto marzo alle nove di mattina la gestapo arriva davanti a casa di bloc a lione bloc è appena uscito con una valigetta la gestapo interroga i negozianti gli elohim si è andato di là di là lo inseguono lo catturano in quei giorni praticamente arrestano l'intera direzione regionale nella francia del sud della resistenza la stampa filo nazista annuncia che la capitale della resistenza lione è distrutta e che il capo dei terroristi era un ebreo che aveva preso come pseudonimo il nome di una città francese narbonne narbonne lo pseudonimo di marc blocco nella resistenza era narbonne e lui la stampa filo nazista del regime di vichy lo considera il capo della resistenza nella francia del sud avranno magari un po esagerato ma certamente non dobbiamo sottovalutare il ruolo che il professor bloc si era fatto tant'è vero che anche a berlino il giornale del partito nazista il fölkischer beobachter annuncia un ebreo dirigeva i terroristi in francia l'ambasciatore tedesco a vichy informa il suo ministero a berlino il capo della direzione del movimento di resistenza a lione era un ebreo francese chiamato bloc dopodiché bloc è portato al quartiere generale della gestapo diretto da claus barbi interrogato torturato poi trasferito in prigione ci sono diverse testimonianze di informazioni che si scambiavano i resistenti ancora liberi il diario per esempio di uno dei suoi compagni 14 marzo lo storico mark bloc è stato arrestato a lione 20 marzo mark bloc è stato visto in un corridoio il viso tumefatto e insanguinato 17 giugno sempre dal diario di questo resistente a lione lo storico mark bloc è stato torturato immersioni nell'acqua gelida bruciature della pianta dei piedi tre costole rotte e appena uscito da una broncopolmonite intanto il 6 giugno gli americani erano sbarcati in normandia e i tedeschi si preparano a sgombrare la francia bisogna sgombrare lione a lione c'è questa grande prigione dove ci sono centinaia di detenuti e prima di sgombrare i tedeschi ovviamente decidono di ucciderli tutti sono talmente tanti che ci vuole moltissimo tempo un giorno riescono a fucilarne 20 un altro 50 in tutto ci mettono qualche mese per fucilare 713 prigionieri di questa prigione di monluca lione un giorno uno di quelli che vengono ammanettati caricati su camionette e mark bloc sulla sua morte ecco c'è una cosa da dire che se non fosse una vicenda così terribile farebbe quasi sorridere lui secondo me l'avrebbe fatto sorridere sono nate delle false notizie ovvero delle leggende le testimonianze dicono cose diverse molti si sono immaginati o credono di ricordare o ricordano perché chissà qual è quella buona delle cose molto belle uno un paio di quei 30 sono sopravvissuti e hanno testimoniato dopo altri li hanno visti portare via uno dice mentre ci fucilavano c'era chi gridava addio mamma o addio moglie uno ha gridato viva la francia ho saputo dopo che era mark bloc professore alla sorbona ho saputo dopo va a sapere un altro ricorda un altro di quelli che si sono salvati di quel carico ero lì con mark bloc incatenati sulla camionetta abbiamo sentito le prime raffiche di mitra con cui uccidevano i primi e bloc mi ha detto tranquillamente quel che c'è di buono e che non si fa in tempo a soffrire questa cosa è diventata poi una vera leggenda nel senso che molti hanno detto e ripetuto la storia di quel ragazzino sedicenne che faceva parte degli arrestati portati alla fucilazione e che tremava di paura e che bloc al ragazzino dice ma no piccolo stai tranquillo non fa male vedete come le cose poi sono con lei però è insomma inutile che lo ripete ci siamo capiti vero mark bloc ha lasciato un testamento del 18 marzo del 43 chiede funerali puramente civili dice i miei sanno bene che non ne avrei voluti altri non ho chiesto che sulla mia tomba fossero recitate le preghiere ebraiche anche se le loro cadenze hanno accompagnato all'ultimo riposo tanti dei miei antenati e anche mio padre non l'ha chiesto dice in questo suo testamento però guai se qualcuno pensasse che non ho chiesto le preghiere ebraiche perché rinnego la mia eredità ebraica mi sarebbe ancora più odioso che qualcuno potesse vedere in questo sforzo di sincerità un rinnegamento affermo dunque davanti alla morte che sono nato ebreo e che non ho mai pensato di negarlo poi precisa dice appunto se non voglio preghiere per un altro motivo perché non sono credente non lo sono mai stato e non voglio menzogne vorrei che sulla mia pietra tombale fossero incise queste semplici parole di lexit veritatem ha amato la verità grazie 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 alla prossima alla prossima che nel mio caso vuol dire all'anno prossimo e alla quinta sarà quarta edizione l'anno prossimo del festival del medioevo grazie a tutti naturalmente qui fuori abbiamo dei libri del professor Barbero quindi li trovate tutti nella nostra fiera del libro grazie